Una serie di situazioni in sospeso in C, come quelle di Trestina, Propadre, Emolese, Viterbese, Teramo e Messina. E' il quadro di insieme per il quale non può certo dirsi a priori come saranno determinati i prossimi gironi di Lega Pro. Nel frattempo le società continuano a muoversi sul mercato e non solo. La neopromossa Giuliano ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. Ha raggiunto l'accordo con Lello di Napoli, quest'ultimo prenderà il posto di Giovanni Ferraro sulla panchina della formazione napoletana. Di Napoli è retrocesso in Serie D con la Vaganese nella scorsa stagione dopo averla salvata in precedenza sempre ai play-out. La Turris ha comunicato sui propri canali social la risoluzione del contratto con Lorenzo Bordo. Il mediano, classe 1996, non farà parte più della squadra a partire dalla prossima stagione. Il centrocampista si legherà all'Arzignano Valchiampo. Il Catanzaro punta la riconferma di Pietro Iammelo, attaccante di Nato negli ultimi mesi dopo l'esperienza poco felice a Frosinone che però dovrà abbassarsi l'ingaggio se vorrà continuare a vestire la maglia del Catanzaro anche per la prossima stagione. Pronto il terzo cambio di girone nelle ultime tre stagioni per Francesco Benassai, difensore centrale che dopo aver lasciato Pondedera aver scelto il Taranto, 32 le presenze stagionali, è atteso dall'esperienza di Lombardia. Il classe 98 è infatti prossimo al passaggio alla Feralpi-Salò. Si chiude dopo tre stagioni l'esperienza rosso-blu di Antonio Sepe, difensore che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giorni con il Potenza e si sta perciò guardando intorno in cerca di una nuova sistemazione. Grazie. Grazie. Grazie.